Uno dice sei un asino, hai voglia dire sei un asino? Sì, a parte che gli asini sono bellissimi, ma gli asini fatti in questo modo, buongiorno, bentrovati, questa è l'ora solare, sono unici al mondo perché guardatelo bene, non solo è disegnato in modo splendido, ma gli occhi, tutto ciò che dà l'interpretazione del suo essere asino, sono due sassolini, sassi, ma voi li avete mai raccolti i sassolini al mare, in riva ad un fiume, così dove capitava c'è una signora, che è una signora in tutti i sensi, che raccoglie i sassolini e li fa diventare arte, ho voluto aprire come un asino perché vuoi vedere mai che sbaglio, Anna Bruscolotti è qui con noi, sottolineando che io adoro gli asini, questa gentile signora, che vi prego di notare, sta così, è aggrappata al nostro divano della serie, ben arrivata, grazie di essere all'ora solare, è una signora riservata che però ci svelerà larga parte di questa sua meravigliosa opera, lei lavora con i sassi? Sì, raccolgo i sassi, vedo delle forme, sono innamorata dei sassi, chiaramente. Cos'hanno di belli i sassi signora Anna? Ma ci si può immaginare di tutto, da un sasso io vedo un personaggio, un palloncino, un cuore, ecco, vede davanti, qualsiasi cosa. Lei vede qualsiasi cosa, allora Anna, Anna è arrivata in famiglia dopo tre fratelli maschi. Sì. Dico bene? Sì. Ha imparato a raccogliere i sassi per questo, per tirarglieli. Anche. No, lo dico con l'accezione migliore del termine. No, sono la più piccola, quindi la più coccolata, no? La più coccolata. Non ho avuto... Ma una femminuccia che arriva dopo tre maschi, impara a essere anche un po' maschiaccio? Sì, giocavo con i soldatini, quindi un po' maschiaccio. Cioè, però guardate che gruppo, insomma, è un bel gruppo. Anna ha una storia personale di amore per gli altri. Io cerco di tirarle fuori le parole un po', una alla volta. Ecco, lei è una persona capace di dedicarsi agli altri, di donarsi agli altri. Sì, ho fatto per tanti anni l'assistente portatori di Endica. Tanti anni e ancora oggi alcuni li sento, appunto. È complicato? Difficile? Oppure è in salita insieme a questi ragazzi e ragazze, uomini e donne? Diciamo complicato per una questione proprio di... Io all'inizio sono stata molto male perché avevo proprio dispiacere a vederli in un certo modo e invece poi vivevo tante ore insieme a loro, quindi sono proprio diventati... Era la mia seconda famiglia, ecco. Sono diventati famiglia? Sì. E per me, cioè, erano tutti insieme, tutti uguali, senza nessun problema. Cioè, nessuno... Cioè, non notavo nulla di diverso, ecco. Ha detto una cosa molto bella, Anna. Poi arriviamo ai sassi colorati, però guardate, tutto questo è un percorso... Provate a immaginare che noi partiamo da sassi tutti bianchi e ogni parola di Anna mette colore a questi sassi. Poi arriviamo alle sue creazioni. Ha detto, mi dispiacevo per loro. Sì. Cioè, era difficile? Era difficile, sì. E poi, però, come si impara a fare... a fare del bene, a essere solidali? Beh, perché loro mettono tanto, mettono tanto amore e avvicinano proprio le persone, cioè, con uno sguardo, un sorriso, cioè, passa tutto. Senta, passa tutto. Lei quanti figli ha? Tre. Una trimamma? Trimamma, sì. Quanti? Maschi, femmine? Una femmina e due maschi. Una femmina e due maschi. Qui la vediamo che sta facendo purpur. C'è un motivo per cui dico purpur, perché la signora ama anche i gatti. Sì. E qui proprio è la mamma che fa le fuso alla figlia. Sì. Sì, sì, sì. E lei, nonostante tre figli, ha trovato sempre il tempo di dedicarsi? Ma io non potrei stare proprio senza colori, senza tutto questo. Allora, arriviamo a tutto questo, scusatemi, perché se no... Però abbiamo voluto raccontarvi un po' questa persona dolce, tenacissima, timida, bella. Abbastanza. È abbastanza. Che per vent'anni e più è stata e resta persona capace di essere a disposizione di tutti, tre volte mamma, appassionata di pittura. Da quando? Da sempre. Da sempre. Il mio primo regalo è stato un cavalletto con gli acquerelli e da lì ho cominciato. Poi mio fratello, che era appassionato, chiaramente, mi faceva fare prove su prove. Uno dei suoi fratelli ha fatto il dicevo artistico. Sì, sì. Sì, sì. Voleva proprio che la perfezione, anche se ero piccola. La perfezione da me anche se ero piccola. E quindi... Però a me già piaceva, evidentemente. Che cosa ha di bello fare un lavoro artistico, signor Anna? Ma io... Quando disegno... Cioè, sto in un posto, in un altro posto, non ho problemi, si cancella tutto. E i suoi ragazzi, non i suoi tre figli, ma i suoi... Ho rovinato l'applauso. Gli lo faccio... Chiederò, chiederò, prima o poi al mio Alessandro Teresa una telecamera che riprende il dietro le quinte, perché è popolato di persone meravigliose che sono pronte così, no? Quando una cosa gli piace, sentono una cosa che gli piace, l'applauso. L'avevo quasi rovinato perché volevo arrivare a questo. Quei ragazzi, quei ragazzi portatori di disabilità che lei ha sempre curato con amore, hanno beneficiato anche di questa sua... Sì, sì, certo. Abbiamo fatto mostre, erano impegnati, quindi siamo stati... È stato un bel periodo. È stato un periodo bello, dà soddisfazione partire da una tela bianca, da qualcosa che non ha niente sopra e poi... Certo, certo. Io magari immagino qualcosa, poi vedendo il sasso proprio vado oltre e non vedo l'ora di fare... Cosa ci vede nei sassi lei? Tutto, tutto, tutto. Tutto. Cioè, io prendo... Aspetti, faccio così. Io prendo questo sasso, che è dipinto ovviamente, perché dietro sarebbe un sassetto, diciamo, color sasso, e davanti è bianco e poi guardate questo è così bello che sembra un confetto. L'ho preso perché somiglia alla mia camicia oggi. Ho voluto esagerare. Lei qui che ci vede? Tutto. Ci potrei fare, ecco, con quello bianco un occhio, con l'altro un fiore, disegnarci un gatto, qualsiasi cosa. Forniamo ai gatti. Noi tra pochissimo riprendiamo con Anna. Anna che ha visto tante cose come capita nella vita, no? È passata per immense gioie, per un grande dolore e per un'arte che la accompagna in tutto questo e fa di lei un'artista molto speciale. Le persone si fermano a guardare i suoi lavori, li comprano, ma prima ne dicono quant'è brava. Glielo diciamo anche noi. Tra poco vi facciamo leggere nei sassi cosa sia la bellezza. Arriviamo tra un attimo, eh? Arriviamo tra un attimo. Aspetta. Anna, Anna, Anna Bruscolotti è quella magnifica, meravigliosa signora che vedendo i sassi riesce a intuire come da lì possa nascere un quadro, un'opera, un occhio, uno sguardo. Tutta questa bellezza. Ben arrivata e grazie di essere con noi. Mamma di tre figli e magnifica insegnante anche d'arte, oltre che di amore e di solidarietà, per tanti anni ragazzi portatori di disabilità. Andiamo a capire come sia nata questa passione, diventata anche un lavoro, Anna. Sì, diciamo che faccio i mercatini, che chiaramente non sono proprio, cioè facendo i mercatini ho più soddisfazioni, che chiaramente non è un vero e proprio lavoro. Non battono all'assa di Cristis, diciamo così. Però, però, allora parliamo delle soddisfazioni. Guardi, sono... Fuori il sasso invece di fuori l'osso, avanti. Sì, e si fermano tante persone, tante persone, anche anziani, si fermano lì, leggono tutte le frasi che io poi scrivo sui quadri, poi le scelgono anche loro alcune volte, quindi io le scrivo. Ah, cioè se io arrivo e non lo so, ho appena fatto una magnifica vacanza al mare, guardo questa sua opera, posso anche chiederle una dedica? Certo, certo. Che bello. Scrivo e poi ecco le cose, ci sono cose anche simpatiche di ragazzini, fidanzatini, che magari uno regala un quadro all'altro e l'altro lo fai così, lo segni. Chi sono più romantici, i ragazzi o le ragazze? Le ragazze, le donne in genere. Però quando si ferma poi qualche ragazzo, allora io ci penso tanto nel senso che se si ferma un ragazzo è veramente una persona sensibile perché è difficile, no? Perché è più difficile senza nulla togliere, però effettivamente è più complicato, insomma, quindi se lo fa è sicuramente un po' più aperto rispetto agli altri. Dunque, è difficile questa lavorazione? Beh, è difficile, ci vuole tanta immaginazione, tanta pazienza, perché poi ci sono varie fasi, bisogna scegliere il legno, poi scartavetrarlo, dipingere la base e poi scegliere il sasso che, insomma, ho dei luoghi che non so, per esempio per fare le vele vado nei laghi. Per fare le vele lei... Scelgo i sassi che stanno nei laghi. Perché? Perché sono fatti in un certo modo, io questi non li modifico, sono già così. Ah, cioè, allora, in questo caso qui, incredibilmente, per fare le vele delle barchette, vediamo, sono di mare ma vengono da un lago, non c'è nel senso, rappresentano il mare ma vengono da un lago. Sì, praticamente sì. Oppure devo fare una cosa particolare, allora vado in alcune spiagge che so che i sassi sono più lavorati. Cioè, lei ha una mappa dei sassi, dei luoghi sassosi? Certo. Una mappa sassosa? Certo. Ma lei è un personaggio, signora, io sono entusiasta di averla, mi ospite, perché è bellissimo. Perché hanno, come posso dire? Sono particolari, ognuno ha la sua forma, ogni spiaggia ha un sasso diverso, dipende dalle correnti, da tante cose. Certo, perché sono ovviamente i sassi che vengono comunque lavorati dall'acqua, dal vento, dal tempo, voglio dire. Allora, la signora Anna ci ha portato anche un'opera di gatti curiosi. Ci sono dei gatti meravigliosi, coloratissimi, che stanno lì, con l'aria un po' così. Perché a casa ci sono Totti e Leone. Totti e Leone, capitano, Totti e Gatto, ovviamente, e Leone che le tengono compagnia. Quante volte Totti e Leone spostano però all'opera? Spesso, spesso. Le disgrida? No, perché tanto poi sono anche un po' delicati, quindi ormai sanno cosa si può toccare oppure no. Cosa si può toccare oppure no. Ma questo che vediamo è... E questo è Totti. Questo è Totti e poi c'è Leone che invece è rosso. È rosso. È rosso. Non so se abbiamo anche la foto di Leone, era immancabile dentro ad una scatola perché i gatti lì vanno. Allora, senta signora Bruscolotti, noi con lei siamo entrati in questo mondo di sassi e bellezza. Le auguriamo, come dire, tanti colori. Grazie. E tanti sassi per fare opere belle. Grazie mille. Nel caso lei ci voglia tornare a trovare, noi, zitti zitti, buoni buoni, lisci lisci come i suoi sassi, stiamo qui. Va bene. Le auguriamo tutta la felicità del mondo, signora. Grazie ancora. Lei riesce a rendere la felicità in un sasso piccolo così e quindi la dobbiamo ringraziare. Grazie. Grazie a te. Una donna meravigliosa, una donna meravigliosa perché ancora più, sapete, forse perché io sono così chiassosa e rimango sempre rapita dalla delicatezza e lievità delle persone come la signora Anna. E adesso riprendiamo il viaggio dell'ora solare. Via, non ci commuoviamo. Andiamo, andiamo dove? Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo a vedere dove il girasole ci porta. Ecco, andiamo a Milano e facciamo viaggiare con noi anche la signora Anna perché andiamo a conoscere il signor Ridolfo dai Sassolini ad un maestro orologiaio, sempre di arte stiamo parlando. Guardate. Sono Rodolfo Saviola, professione orologiaia. Per fare questo lavoro bisogna sentirlo proveniente dall'interno, è il cuore che tu lo devi comandare. Se c'è questo richiamo dall'interno, passano le ore, passano i giorni, tu non ti accorgi, sei sempre lì concentrato sul tuo orologio e la cosa non ti pesa. La mia passione è nata negli anni, i primi anni 60, quando da bambino giocattoli non ce n'erano più di tanti. C'erano in giro tante sveglie, tante pendole. Ho incominciato a mettere mano in qualche orologio del genere e da lì è nata questa passione irrefrenabile che mi accompagna tuttora. Ci troviamo in casa mia, ormai è diventato un museo, gli orologi che sono qui sono orologi che per passione raccolgo. Qualcuno mi è stato donato, la maggior parte sono stati acquistati su aste, fiere, presentano delle mancanze, delle rotture, parti di ricambio che non esistono chiaramente più, perché parliamo di orologi del 700, dell'800 eccetera e non mi rimane che ridisegnarmeli e rifarmeli. Io non li ho mai contati, però senz'altro tra orologi da tasca e un migliaio abbondante ci sono insomma. Questo è un ex orologio dell'edificio, come tutti gli orologi in genere è null'altro che un contatore con una base dei tempi. In questo caso la base dei tempi è il pendolo. Il pendolo fa funzionare lo scappamento. Lo scappamento è questo, dove i denti vengono rilasciati uno alla volta, tramite ruote, pignoni eccetera, si arriva all'albero di centro, che è questo sotto, che porta la lancetta dei minuti che io faccio oscillare. Orologi più antichi che ho, uno è un pezzo del 600 in ferro, poi ho un orologio completamente in legno, una metà del 700, un orologio della foresta nera. La nostra Antonellina Ferrara peraltro è sempre puntuale, non poteva che essere lei raccontarci la storia di questo signore, il signor Rodolfo, che ha fatto degli orologi, della precisione, della bellezza, la ragione della propria vita. Sono molto felice di presentarvi il nostro prossimo ospite. Prima di tutto, perché ci è stato raccontato, raccontato da chi di dovere nella nostra redazione, come persona straordinaria. E come persona straordinaria io ve lo presento. Pietro Santucci, vestito di tutto punto, in arrivo come guida di montagna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Ben arrivato. Grazie. E grazie a persone come lei che noi respiriamo ancora. Grazie Paola. E lo scopriremo, comunque la fonte era Eugenia Scotti, la nostra Eugenia, che ha detto no, guardate, dovete conoscere questo signore, una persona straordinaria. Allora facciamo una cosa, prima di far parlare il nostro ospite, facciamo parlare queste immagini. Immagini che ci devono far pensare che siamo tutti responsabili di questa bellezza. Guardate. Eugenia Scotti, la nostra 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 Eugenia Scotti. Dunque, immagini splendide, la musica non ne parliamo, Pietro Santucci, lei è l'uomo di tutta questa meraviglia? Sì, diciamo che è la natura, poi la meraviglia di per sé, io sono quello che ne soffriisce, che non la sfrutta, ma ne soffriisce. Mi ha detto niente, lei la difende? Sì, assolutamente, questa è una delle priorità assolute. La sua divisa lo dice, perché qualora non venga difesa, questo lo vogliamo dire senza la minima voglia di essere catastrofisti, è un attimo distruggere tutto questo, è un attimo, basta niente, no? Sì, io tra l'altro provengo da un territorio molto importante d'Italia, che è il Parco Nazionale d'Abruzzo-Lazio-Molise, un parco storico italiano insieme al Gran Paradiso, ormai 100 anni, quest'anno festeggerà i 100 anni di vita, il prossimo anno. Quindi se li porta bene questi 100 anni? Si li porta molto bene. Allora, nelle giornate tipo del signor Pietro Santucci, mentre noi sulla tangenziale incontriamo altre macchine, più o meno come le nostre, con gente dentro molto arrabbiata come talvolta siamo noi, lui incontra cervi, orsi, lupi. Ci racconta la sua giornata? Sì, beh, diciamo che intanto devo dirti che sono stato molto fortunato a far diventare una professione la mia passione, questa è una cosa, tra l'altro mi sento un privilegiato, perché vivere la montagna quotidianamente, la natura quotidianamente, vedere gli animali che io amo tanto tutti i giorni, per me è una cosa bellissima. Però si impara a fare questo lavoro, Pietro? Si impara perché chiaramente io non sono nato guida, sono nato solo amante della montagna, poi grazie anche all'aiuto dei, soprattutto di mia moglie, che mi ha dato molti stimoli, sono diventato guida quasi 20 anni fa, oltre 20 anni fa, attraverso un corso di formazione abbastanza lungo e da lì pian piano ho potuto poi realizzare il mio sogno, quello di andare tutti i giorni in montagna, condurre persone, cercare di insegnare loro come si rispetta la natura, ma questa non è una presunzione, perché molti già lo sanno, ma tanti no. Tanti sono, cominciare da chi sta guardando, delle persone che non conoscono, cioè noi siamo ignoranti di come, ignoriamo, come trattare nel modo giusto la natura. Le fotografie che stanno passando sono tutte scattate da Pietro Santucci, di compreso questo cucù di questo orsetto, che sta lì e bisogna, oltre che saper stare a debita distanza, bisogna saperli rispettare in quella debita distanza. Questo è fondamentale, anche perché noi lottiamo quotidianamente per poter insegnare alla gente inconsapevole, non voglio dire che siano persone diciamo così barbare, ma molti non sanno come approcciarsi con gli animali, l'animale va rispettato. Noi abbiamo un tesoro che nel nostro parco, una biodiversità veramente importantissima, pensate che vi sono quasi 70 specie di mammiferi, oltre 300 specie di uccelli, 40 specie tra anfibi, rettili e pesci, c'è una varietà floristica importantissima. E pertanto se non si insegna alla gente come rispettare soprattutto gli animali, è possibile che poi succedano fatti molto incresciosi. Allora, io cito, intanto si chiama Civitella Alfedena, il suo paese, circa 300 anime, siamo in provincia della meravigliosa L'Aquila, avete mai detto ad un amico pari un orso marsicano, che detto così può, no, come carattere, no, quelli un po' burbero, c'è pari un orso marsicano, l'orso marsicano, intanto questo è il suo meraviglioso, Questo è il Civitella Alfedena, è il mio paese, mamma mia. Lui è l'orso marsicano, al quale non potete dire sempre un orso marsicano, perché bisogna stare a debita distanza, a parte perché lo è, a debita distanza, e a debita distanza nessun animale è pericoloso. Sì, diciamo che comunque il nostro orso già di per sé ha un'indole leggermente più docile, più pacifica rispetto alla sua specie, l'orso bruno, no, quello del frentino. Però questo non vuol dire che l'orso, se si sente minacciato, non possa aggredire, è lì che bisogna poi rispettare l'animale. L'animale va tenuto a debita distanza, ma tenete conto, tieni conto che ogni animale in qualche modo fa capire quando è stressato. Ad esempio l'orso emette uno sbuffo molto forte, quando si sente minacciato dall'uomo, sbuffa. E' quello il primo sintomo di stress dell'orso. In tal caso noi dobbiamo già capire che l'animale si sente minacciato e allontanarci. Quindi smettere di fotografarlo è... Ma quello che è più importante è che non dobbiamo avvicinarlo a distanze, diciamo, minime. A distanze, no, anche perché poi sono fatti nostri se li avviciniamo, sbuffa, come le persone. Sì, sì. No? Allora, ci sono... mi correggi Bruno, ci diamo del tuo... Sì, grazie. Solo 60 esemplari di marsicani nel mondo? Sì, questo purtroppo è l'orso più raro al mondo. E sono tutti nel nostro parco? Esatto. Noi abbiamo dai 50 ai 70 animali, orsi, nel Parco Nazionale d'Abruzzo e sono tutti più o meno nella zona del Parco Nazionale d'Abruzzo. Il parco, l'ente parco, da anni tutela fortemente questo animale, ma non solo, anche l'Unione Europea Europea è un animale molto importante, un animale importantissimo. E dobbiamo stare molto attenti, molto attenti perché basta veramente poco. Basta un attimo. Loro si avvicinano, gli animali si avvicinano ai centri abitati e noi siamo presi dalla sindrome dell'U, guarda, non è mai un buon segno quando si avvicinano troppi centri abitati. L'animale potrebbe anche essere definito un buon segno, nel senso che l'animale cerca cibo, poi i nostri paesini sono comunque paesi immersi nel bosco, cioè al limite del paese noi abbiamo il bosco, quindi per un animale non è un problema entrare in un paese e uscire di nuovo. Guardate qui, guardate questa fotografia. Questa è la foto di Pietro Santucci, tutte foto sua. È Natale, è Natale, lei è arrivata come parente delle renne di Babbo Natale a sondare la zona? Sì, è frequente vedere cervi in paese e anche orsi. Io mi sento di fare un appello, Paola, alle persone, ai turisti soprattutto che arrivano nel parco e spesso pensano di avere a che fare con animali domestici o peluscio o altro ancora. Spesso vedo gente che si mette lì con i selfie, con gli animali alle spalle. Io veramente consiglio a tutti di non farlo, rispettare gli animali. È una cosa molto importante. No, i selfie con l'orso Bruno alle spalle o l'orso Marsicano, chiedo scusa, o il cervo, o il daino, no, assolutamente no. Il lupo, il lupo, San Francesco, il lupo che sicuramente è il lupo, però il lupo leggendo tutto ciò che Pietro Santucci ci ha mandato, per esempio il lupo è fondamentale perché questa è una foto meravigliosa Pietro, ma come hai fatto ad arrivare così vicino? Sono stupendo. Allora noi abbiamo, lupi frequentemente li vedo in montagna, li fotografo via di sicuro. Noi abbiamo anche la fortuna di avere a Civitella Alfedena, il mio paesino, un'area fonistica con una famiglia di lupi, un branco, ed è un'area molto importante perché è stata la prima area istituita in Italia nel lontano 73, quando il lupo era ancora cacciabile dall'uomo e quindi l'ente parco iniziò questo grande percorso a tutela dell'animale e solo dopo due anni riuscì a renderla specie protetta. Quindi già questo è stato un grandissimo traguardo. Oggi il lupo ha ripreso possesso di tutto il territorio nazionale, purtroppo rimane l'animale un po' più perseguitato dall'uomo, essenzialmente perché è un competitore alimentare dell'uomo. Mangia le pecore perché chiaramente non si ferma davanti a una porta chiusa. Esatto, e quindi avrà sempre questa sfortuna. Però pulisce tutto il lupo. Sì, ha una doppia funzione a livello di importanza ecologica. Ecco, la prima è proprio perché è un superpredatore, è all'apice della piramide alimentare e tende a regolare l'ecosistema di per sé. La seconda è a livello sanitario perché va a eliminare tutto ciò che resta sul terreno. La natura è grandiosa, saprebbe regolarsi perfettamente. Sì, farebbe tutto da solo, senza il nostro intervento. Allora invece l'intervento dell'uomo è fondamentale, di Pietro Santucci nei nostri confronti è fondamentale. Allora, trekking particolari, magna trek sulle vie della... Transupanza. La transupanza, io quando l'ho letta ho pensato sinceramente, dico, ma transupanza, abbiamo mangiato un po' troppo, no, che cos'è? Ma questo è una delle attività, diciamo, uno dei punti di forza della mia piccola attività, no, di trekking. La tua grande attività. Diciamo che è un trekking che unisce le mie due passioni, le mie due grandi passioni, l'enogastronomia e... Presso la betulla. La natura. Pertanto si cammina tre giorni percorrendo tre regioni, perché il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise comprende tre regioni. Facciamo un giro lungo di 55 chilometri più o meno a piedi e io durante le escursioni presento delle sorprese. Cioè ci sono dei, diciamo così, dei professionisti del settore gastronomico o naturalistico che si fanno vedere in alcuni punti. Li incontriamo in alcuni punti a sorpresa. Quindi è proprio transupanza. Proprio una transupanza vera e propria. Era detto panza come panza. E quindi incontriamo il pastore con il formaggio, il cioccolatiere che ci fa vedere i suoi dolcetti appena pronti, l'entomologo che ci fa conoscere gli insetti, l'erborista. Anche perché dai a camminare 58 chilometri e li butti giù. Certo, ma poi ogni tanto ci fermiamo per questo motivo. E che cosa, mentre scorrono queste immagini, è tutto, tutto girato, filmato, fotografato da quest'uomo? Pietro Santucci, intanto grazie infinite. Che cosa non dobbiamo fare? Lasciare il nostro segno lasciando per terra le cicche di sigarette, le buste di plastica? Come tendiamo noi ad insegnare come guide? Noi abbiamo una formazione naturalistica. Siamo comunque iscritti al collegio delle guide alpine Abruzzo, ma siamo accompagnatori di Mediamontagna. E naturalmente la nostra mission soprattutto è quella di insegnare alla gente come entrare in natura, come accedere con il pieno rispetto, senza lasciare tracce del nostro passaggio. Noi siamo ospiti, Paola. Quando entriamo nel bosco dobbiamo capire che non siamo noi i padroni, pertanto dobbiamo lasciare tutto così come troviamo. Questa è una cosa importantissima. Pietro Santucci, signore e signori, una grande, meravigliosa guida, un signore che ci ha insegnato che siamo ospiti. I veri padroni sono loro, laggiù, li stiamo vedendo. Senza dubbio. Grazie. Ci vediamo tra un attimo, l'ora solare, vi stiamo aspettando. Grazie. Grazie. Complimenti. Allora, allora, a questo punto, tanto oramai conoscete anche il modo che ho di dire, chiedo la vostra attenzione, chiedo un po' più di vostra attenzione. Questo vuol dire che abbiamo bisogno della vostra cura e della vostra solidarietà. Io vi presento subito il direttore dell'Antoniano, Fra Giampaolo Cavalli, che è sempre un piacere grandissimo avere qui con noi. Ben arrivato. Piacere mio, grazie. Allora, il numero. Il numero da assegnare e da fare con quell'attenzione, con quella cura che avreste, sapendo che dei vostri amici abbiano difficoltà a, come si dice, a mettere insieme il pranzo con la cena. 800-806-806. Questa è Operazione Pane, organizzata da Antoniano Onlus ed è una risorsa della quale stanno beneficiando tantissime famiglie in questo tempo di Covid, in questo tempo che ha tolto il lavoro, che ha tolto il sonno a tanti padri e madri. Ecco, arriva il vostro Antoniano a fare che cosa? L'Operazione Pane è una rete che tiene insieme tante mense francescane sparse su tutto il territorio italiano. Quindi è una rete di mense francescane. Francescane, sì. Sono 17 in Italia e una mensa, una realtà ad Aleppo, sempre con i fratelli francescani, in Siria. E ogni giorno ci sono tantissime persone che frequentano questi posti, questi luoghi di accoglienza perché hanno fame. La grande sorpresa di quest'anno, se ci confrontiamo con il 2019, quel tempo che diciamo era la normalità e adesso c'è… Ora è tempo Covid. È tempo Covid, sì. Il dato che ci ha proprio sorpreso, perché non eravamo abituati, è l'aumento incredibile delle famiglie che si sono rivolte alle mense per essere aiutate. Un aumento che nella nostra realtà, in Italia, possiamo calcolare intorno al 67, quasi 68% in più rispetto al 2019. Per cui sono numeri veramente enormi che ci stupiscono e che anche in un certo senso ci fanno stare male e ci preoccupano. Certo, certamente. Perché vuol dire bambini, vuol dire mamme, vuol dire papà, vuol dire fatica, vuol dire futuro. E dove ci sono i bambini vuol dire futuro. E dove ci sono i bambini significa futuro, però io in questo caso sto pensando, in questo momento io sto pensando, visto che parlo a dei nonni, a delle nonne, a dei genitori, io penso a quanto terribile debba essere sapere di non poter dare il pane ai propri figli. Io credo che il senso di frustrazione che possa provare un padre, una madre, nel non poter dare cibo ai propri figli sia pari e forse ancora più grande del dolore di un bambino che in quel momento non riesca ad avere quello che riteneva logico, cioè un pezzo di pane, un pranzo ed una cena. Noi vi facciamo vedere queste immagini, chiamando questo numero di cui vi ripeteremo il tutto tra poco. Noi vi chiediamo aiuto, per favore, immedesimarvi in questi genitori, in queste persone. Guardate. Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Bastano solo 7 euro al mese per garantire un pasto a chi ha perso tutto. Chiama ora all'800 806 806. Dona 7 euro al mese. Allora, mettendo da parte 7 euro al mese, versandoli ogni mese, 7 euro ogni mese dell'anno, chiamando questo numero 800 806 806, lo ripeto, 800 806 806, si dà un pasto a tantissime famiglie, a chi ha perso tutto e ha bisogno di noi, a chi ha bisogno di trovare un luogo dove ci sia un pasto caldo e dove ci sia un luogo a cui potersi appoggiare anche per vivere. Perché, fra Giampaolo, diceva lei giustamente, si tirano via i bambini in mezzo a questa povertà, dal loro naturale modo di vivere. Sui bambini che non possono condividere i giochi con i loro compagni, che non possono andare a campogiochi, a fare delle attività sportive, che forse non hanno neppure i mezzi per arrivare a scuola o per scrivere anche, perché quando manca il cibo sono tante le fatiche che ci sono. E l'incredibile è che tante di queste persone, che queste persone ci abitano accanto e magari non ce ne accorgiamo, perché scoprire che c'è una famiglia che neppure il cibo per il proprio bambino può permettersi, che ha bisogno che qualcuno le aiuti per il cibo, per la scuola, per le minime necessità, e veramente fa paura. Fa paura e guardate, Fra Giampaolo Cavalli ha detto giustamente, ci vivono accanto, in buona sostanza, siamo noi. Perché a noi non è capitato, ma ad un altro, che è me, sta capitando. E allora, se capitasse a me, io vorrei che qualcuno mi aiutasse con 7 euro al mese per ritrovare con il cibo e con un luogo e con un tetto la dignità, perché quella è la prima cosa che viene ferita quando la povertà ti cade addosso. Quindi, per favore, 800-806-806. Quindi, chiamate questo numero, aiutateci, aiutate l'Antoniano, 7 euro al mese, 7 euro al mese. Adesso ve lo facciamo dire da Sua Raffaella, Sua Raffaella che sta a Bari, ed è un turbine, perché è la suora che aiuta i bambini e non solo. Guardate. Mi chiamo Raffaella, sono una suora di 33 anni, Vivo qui a Bari, in questo bellissimo posto che è il centro diurno Volto Santo. I bambini che arrivano qui sono segnalati dal servizio sociale o arrivano qui per un passaparola tra mamme in difficoltà che hanno bisogno di un sostegno al processo educativo dei loro bambini. Gli occhi di ciascun bambino chiedono tempo, chiedono di essere accolti, chiedono di essere intercettati. Sono sguardi spesso sfuggenti, spesso non capaci di leggere il confronto. Per cui sono occhi che vanno scrutati quando loro non sanno ancora di essere visti, nell'attesa che possano sostenere la relazione. Sono occhi luminosi, belli, vivi, che hanno bisogno di avere uno spazio dove poter esprimersi. Il numero è gratuito, 800-806-806. Sono 7 euro in un mese, ogni mese. Grazie a sua Raffaella, grazie a quelle suore, sono tutte brave, ci stava dicendo Fra Giampaolo, che abbiamo anche visto giocare a pallone, che hanno parlato giustamente degli occhi dei bambini. Abbiamo bisogno di tempo, mi ha colpito tantissimo questa espressione. Il tempo invece corre, il tempo che ci sta portando via tantissimo, oltre alle vite umane. Il Covid per noi è portare via vite umane, però ci sono altre vite umane che rimangono, e meno male, ma che si trovano private di tutto. Il Covid ci ha un po' privato di tante relazioni. Le persone più fragili sono quelle che hanno sofferto e che stanno soffrendo di più per questo isolamento in cui siamo stati in qualche modo costretti. Le mese, questi luoghi, il centro di Bari, sono luoghi di socialità e di incontro, dove le barriere vengono superate e dove ognuno ha ricchezza per l'altro. È bello vedere sua Raffaella che gioca con i bambini e si diverte anche lei, non fa divertire i bambini. Diventa una reciprocità che si costruisce assieme, che diventa passo per qualcosa di nuovo in un modo inaspettato e gratuito. e forse, quando io vedo queste cose, penso sempre a quello che ci dice Papa Francesco, che i poveri diventano nostri maestri perché ci aprono a qualcosa di inatteso, di nuovo, che non immaginavamo e ci regalano sprazzi di vita e di libertà che ci fanno sognare. Fra Gianpaolo, questo progetto solidale porta anche, i numeri hanno un senso, 450 pasti al giorno ad Aleppo, che non sono una goccia nel mare, anzi, sono aiuto e sostegno in una zona devastata dalla guerra. Una zona che ha sofferto tantissimo e che soffre tantissimo. Dove i prezzi, il costo delle materie prime, il prezzo di ciò che è necessario, zucchero, latte, farina, è enorme e tantissime famiglie non se lo possono permettere. I frati della parrocchia di San Francesco in Aleppo vogliono proprio aiutare queste famiglie a ritrovare casa ad Aleppo e lo fanno dandogli gli strumenti perché possano restare lì e possono avere quel minimo sostegno fondamentale, indispensabile per poter investire quel poco altro che hanno per la cura, per la scuola, per avere un'abitazione in una situazione che è veramente faticosa e che il Covid ha reso ancora più pesante. Il Covid ha fatto sì che tantissime famiglie bussino alla porta delle mense francescane. Tantissime famiglie piegate da tutto ciò che il Covid ha portato con sé abbiano bisogno di mettere insieme il pranzo con la cena, persone che prima il pranzo con la cena lo mettevano insieme. È questo che noi dobbiamo pensare. È come quando arriva un terremoto, noi siamo prima padroni di tutto quello che abbiamo intorno a noi, le nostre tazzine, del latte, del caffè, del caffè latte la mattina e poi ci crolla il mondo addosso, non abbiamo più niente. Allora è bello immaginare che qualcuno si occupi di noi. Per favore, per favore, sono 7 euro al mese, ogni mese. Chiamate l'800 806 806, il numero gratuito. Vi daranno tutte quante le indicazioni e diventerete anche voi, tutti noi, parte mattoni di quel meraviglioso palazzo, struttura, luogo, fortino di bontà che è l'antoniano. Perché, insomma, dobbiamo anche parlare di voi. Voi siete nati per il pensiero illuminato di uno dei vostri confratelli. Che aveva fatto un'esperienza terribile perché era stato in campo di concentramento e quando torna da questo luogo terribile si porta con sé il desiderio e la volontà di accogliere chi ha fame, i poveri, come si ospitano gli amici a casa, gli ospiti in un ristorante. E poi aveva un altro grande sogno. In campo di concentramento lui aveva un coro di bambini e sognava, una volta tornato, se mai fosse tornato, di far cantare tutta l'Italia. Con lo zecchino d'oro ci è riuscito. Con lo zecchino d'oro si è ampiamente riusciti. Tra l'altro Fra Giampaolo ci ha portato l'ultimo, questo è il 64esimo zecchino 2021, quindi noi l'abbiamo messo qui in bella mostra perché l'antoniano è tutto questo. Voi siete un centro, siete una chiamata al bene nel cuore della meravigliosa Bologna ma siete poi capaci, e lo fate, di estendere a tutte le vostre mense francescane in Italia. Quindi chi dona quei 7 euro in realtà manda in circolo questa operazione pane. Sì, perché quello che cerchiamo di fare ogni anno, grazie agli aiuti, grazie a tanti che ci vogliono bene, è quello di allargare sempre di più il nostro sostegno a tante realtà che ci sono in Italia ma anche nel mondo che nel nome di Francesco si prendono cura dei fratelli più fragili, più deboli, di chi ha fame, di chi è solo, di chi da solo non ce la fa. Ed è bello poter regalare un sorriso, una speranza, camminare insieme a qualcuno e poi ti accorgi che è quel qualcuno con cui cammina, cammini che fa la differenza nella tua vita. Fra Giampaolo, noi abbiamo avuto, è stato con noi Carlo Conti che salutiamo e abbracciamo che è il vostro portavoce, il vostro alfiere. Riuscire a pensare che con i nostri 7 euro al mese noi possiamo sostanzialmente invitare a pranzo e a cena persone che non conosciamo. vogliamo metterla anche da quest'altro punto di vista. Non vengono a casa nostra ma nel momento in cui noi doniamo noi spostiamo le sedie della nostra tavola, del nostro tavolo di cucina, della nostra sala da pranzo e invitiamo virtualmente quelle persone a pranzo a casa nostra. In realtà è una cosa che all'altro piano di Bologna ma anche in tante altre mese noi facciamo perché ci mettiamo a mangiare con loro e li invitiamo a mangiare con noi e diventa una bellissima esperienza di sostegno reciproco perché vai lì con l'idea di dare un aiuto e poi ti accorgi che anche loro ti aiutano a riconoscere la tua vita e a dare un senso. Quante di queste famiglie? Intanto 800, 806, 806 dona 7 euro al mese perché chi ha perso tutto ha bisogno di te, ha bisogno di noi. Questa si chiama Operazione Pane e nessun 007 al mondo avrebbe mai potuto immaginare un nome più potente e più bello di questo. Sì, concretissimo. Quante di queste famiglie poi una volta perché voi le aiutate anche a ritrovare un lavoro insomma le aiutate a ritrovare un reinserimento per quanto ci voglia tempo all'interno della nostra società quante rimangono legate a voi? C'è un legame che non si spezza mai e che magari ha i ritmi del tempo perché tutti noi andiamo, veniamo, stiamo, restiamo ci piace, non ci piace però spesso ritorna qualcuno a raccontare, a ringraziare a dare il suo contributo per quello che facciamo e anche con tanta nostalgia per un tempo in cui si è c'è stato qualcuno che si è preso cura di lui si è fatto carico della storia di una vicinanza e alle volte succede che veramente la storia di qualcuno cambi e diventi un'esperienza di vita nuova D'altronde questo lo deve dire lei non lo devo dire io però avevo fame no? mi avete dato da mangiare avevo sete mi avete sì sì è stato è una pagina molto furba quella lì del Vangela perché ci dice dove possiamo incontrarlo ancora perché poi è quello che lui vuole insegnarci il fatto che lo possiamo incontrare in chi ha fame in chi ha sete ci ricorda quanto concreta è il nostro credere nel Signore e accade vero? accade che incontriamo tanti fratelli li riconosciamo e possiamo riconoscerli come figli degli uomini non un figlio dell'uomo che ci sta accanto allora siccome è l'ora del pranzo questa io so che le nostre signore e signori sono più o meno attorno al tavolo piccolo grande medio a seconda c'è il pane a tavola che non deve non deve mancare mai ed è sempre un problema quando manca il pane io sono certa che molti di voi magari fate il numero tra poco quando abbiamo terminato quando voi avete preso il caffè nel primo pomeriggio però io sono sicura che oggi farete questo numero 800 806 806 questa si chiama operazione pane c'è l'Antoniano c'è il meraviglioso Antoniano di Bologna alle spalle ci sono i frati dell'Antoniano in tutta Italia ci sono i frati francescani ad Aleppo 7 euro al mese perché quel pane che è sulla vostra tavola non vi sto chiedendo che cos'altro stiate mangiando diventi pranzo cena dignità e speranza per famiglie che hanno perso tutto a causa del covid che prima forse erano esattamente come noi io sono sicura che lo farete 800 806 806 fra Giampaolo grazie di essere stato con noi grazie ci fermiamo qui in l'ora solare e voi siete il pubblico più bello che esista quindi siamo sicuri che farete questo numero grazie a tutti ci vediamo dopo di sopra grazie 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 a tutti